Allora, buonasera, io sono Lorenzo Fiato e oggi modererò la presentazione del libro L'ideologia del godimento, scritto da Fabrizio Fratus e Paolo Cioni che oggi non è con noi e interverrà anche Vincenzo Sofo riguardo l'effetto della pornografia sulla gioventù di oggi e gli effetti che ha in generale sulla società. Il libro L'ideologia del godimento che io ho letto con estremo interesse nelle scorse settimane è stata una vera sorpresa, una vera sorpresa primo perché io non mi cimento spesso nelle letture di tipo sociologico o sulle neuroscienze e quindi per me è stato un campo relativamente nuovo ma oltre al fatto conteneva delle nozioni che a me erano totalmente sconosciute e parlava di un problema, trattava di questo problema verso il quale la società non degna non degna di alcun riflettore. Noi nella nostra vita sentiamo spesso parlare di tutti i vari problemi, danni che affliggono il nostro paese e la nostra vita, possiamo citarne uno, citiamo la crisi economica, citiamo la mafia, citiamo adesso la difficoltà che il nostro Stato ha a relazionarsi con le onde migratorie ma la pornografia non è mai stata considerata come un problema da parte delle nostre istituzioni. Allora io ho aperto questo libro anche in vista di questa conferenza e ho cercato di raccogliere tutto quello che c'era scritto nella migliore dei modi. In questo libro ci sono delle nozioni, degli studi di sociologia e di psicologia, di scienza molto dettagliati, che vi faranno assolutamente cambiare idea sul mondo della pornografia. Oggi questo è un argomento che viene liquidato molto in fretta, viene banalizzato, non gli viene data l'attenzione necessaria. La verità è che la pornografia produce dei gravissimi effetti sulla mente e sul comportamento, soprattutto sul comportamento delle persone, non solo sui giovani, ma come poi Fabrizio spiegherà dopo, soprattutto sugli uomini dai 40 ai 50 anni, uomini che hanno già sviluppato, hanno una propria vita, hanno anche una famiglia, hanno dei legami affettivi forti, ma che questo non li trattiene dall'allontanarsi dalla socialità, per costruirsi un mondo fatto di lussuria, che in realtà è totalmente fittizio. La pornografia produce anche delle devianze. Devianza è tutto ciò che si distacca dalla normalità. E con devianza voglio, intendo, dei comportamenti, una chiusura verso l'esterno, una difficoltà a relazionarsi, la perdita dei legami affettivi, ma anche, e questo è un vero punto di forza di questo libro, il progressivo cambio dell'identità sessuale. Fabrizio Frattis, infatti, è il primo, tra i sociologi che ha affrontato, tra i primi, che ha affrontato il discorso di come la pornografia vada ad influenzare direttamente il cambio di sesso andando a colpire l'omosessualità. Come poi lui ci spiegherà avanti, tutto questo discorso è portato avanti molto bene dalle tesi scientifiche di Paolo Cioni nella seconda parte del libro. Il libro, appunto, è diviso in due parti. La prima è scritta da Fabrizio e la seconda da Paolo. La prima è decisamente più psicologica, sociologica, mentre la seconda parte è principalmente volta alle neuroscienze. Dopodiché il libro va anche a sdoganare come quello stereotipo che porta a credere la pornografia è un fenomeno solamente maschile. Soprattutto a partire dal 68 la pornografia ha subito un'escalation di afflusso di utenza, soprattutto dovuto anche alla mediatizzazione, che ha portato tantissime donne, anche queste in piena età adulta, ad affacciarsi e venire completamente fagocitate dal mondo della pornografia. E quindi io personalmente credo che conoscere e analizzare il problema sia il primo passo per trovare una soluzione. Oggi siamo qui proprio a spiegare qualcosa di profondamente pragmatico. Le ragioni per cui la pornografia spopola ed è fatta, si è fatta in modo che essa spopoli, sono oltretutto delle motivazioni, dei perché, dal fine quasi piuttosto inquietante. Vincenzo dopo parlerà appunto come l'incapacità dei giovani di oggi di ribellarsi sia dovuta anche al fatto che tutta la nostra generazione in parte sia completamente anestetizzata dal fenomeno della pornografia. Non voglio rubare altro spazio a chi conosce l'argomento meglio di me, anche perché ha scritto il libro, e quindi però prima lascio parlare Vincenzo riguardo al fenomeno della pornografia che colpisce i giovani. Non sono qui per portare la mia testimonianza diretta sul caso pornografia. In quanto responsabile del talebano, secondo me è interessante, prima di lasciare la parola a Fabrizio Fratus che appunto, avendo scritto questo saggio, potrà spiegarci nel dettaglio quali sono le motivazioni per cui è interessante a tutti gli effetti affrontare questo argomento che diciamoci oppure molto chiaramente a primo impatto può sembrare molto reazionario, cioè noi siamo la nostra generazione, parli vai a toccare la pornografia, tutti restano inizialmente un po' così, visto che ormai è parte integrante della nostra vita, ma dal videoporno diciamo sui canali internet, ma anche se noi pensiamo a tutta la pubblicità, tutto il marketing, tutta la società dell'immagine, è molto pornografica nel modo in cui comunica esageratamente. Questo aspetto che però sembra molto quasi tecnico, ha in realtà dal nostro punto di vista una connotazione, come accennava Lorenzo, sociale e politica da non sottovalutare, che è il motivo per cui come circolo talebano, che quindi è, per chi lo conosce, una realtà che si occupa appunto di cultura, di politica e di questo mix, qui abbiamo voluto affrontare anche questo argomento, proprio per porre l'attenzione su un aspetto che apparentemente sembra confinato alla sfera intima, personale e domestica di una persona e che invece ha delle implicazioni proprio sociali notevole. Questo ragionamento, sono una serie di riflessioni che io e altri abbiamo fatto, proprio chiacchierando a proposito dell'argomentazione, parte, mi ricordo, da un episodio che eravamo in galleria con Fabrizio, io Fabrizio e un altro ragazzo, e Buttafuoco, che ci fece i complimenti, mi ricordo, perché ci girammo all'improvviso mentre lui ci parlava a vedere una bella ragazza che stava passando, a noi imbarazzati, perché giustamente uno scrittore come Buttafuoco ci sta parlando, tutti che si girano, tutti fai i complimenti, e da lì partì una conversazione, mi ricordo, con lui che sottolineava il valore simbolico del dare ancora attenzione e del muoversi, quindi dell'avere le proprie energie catalizzate sulla donna, ovviamente nel nostro caso, perché siamo uomini anche tradizionalisti, visto che oggi non è neanche scontato, e questo ci fece riflettere, mi fece riflettere, per cui iniziai a scrivere un paio di riflessioni sul talebano, perché la questione, dal mio punto di vista, è la seguente, e la pornografia è soltanto uno degli aspetti che tocca quello che sto per dire. Noi oggi abbiamo una società che facilita ogni nostro bisogno, facilitando ogni nostro bisogno, e adesso farò degli esempi concreti che tutti conoscerete da giovani come me, pone non soltanto ad avere un'inferiore responsabilizzazione e comprensione del valore degli aspetti sociali che ci toccano, ma anche ad anestetizzarci, citando di nuovo Lorenzo, di fronte a determinate dinamiche. Pensiamo ad esempio ai social, pensiamo a Tinder, che adesso è un fenomeno molto di moda, che risponde a quale bisogno? Il fatto che in una società che è sempre più atomizzata e sempre più frammentata, abbiamo il problema di conoscere altre persone, perché se una persona va in un locale qualsiasi, io vengo da Milano, ci sono miliardi di locali, però tu vai in quel locale con le persone con cui esci e finisci la serata con le persone con cui sei uscito. Cioè tu non hai socializzazione in quelli che sono i luoghi di socializzazione per eccellenza. Se poi ci mettiamo il fatto che ormai la gente lavori 8, 10, 12 ore al giorno e che quindi la propria dimensione resti soltanto l'ufficio, quindi l'ambito lavorativo, Tinder, la società ti dice non c'è problema, tu hai bisogno di conoscere una donna, hai bisogno di conoscere un uomo con cui andare a letto, vai tranquillo, ti fornisco lo strumento Tinder e tu nel giro di due secondi hai trovato la femmina o il maschio a tua disposizione per esaudire quelli che sono i tuoi bisogni. Quindi senza dover andare a fare lo sforzo nel locale di instaurare una relazione con una persona che tu non conosci. Facebook risponde alla stessa cosa, il bisogno di mantenere senza fare fatica i rapporti sociali con i tuoi amici. Io per esempio mi rendevo conto di recente del fatto che ci fossero miei amici molto stretti, amici che conosco da 15 anni con cui abbia rapporti, che magari passa un mese, a me sembra di essere in contatto con queste persone tutti i giorni, quotidianamente, e poi mi rendo conto che magari l'ultima volta che l'ho sentito l'ho visto risale al mese precedente. Questo per quale motivo? Perché Facebook, che bisogno soddisfa? Quello tu senza dover uscire di casa o alzare la cornetta, tu hai un contatto diretto con quella persona, per cui hai, basta che apri Facebook, tu ti trovi sulla tua home page, tutti gli aggiornamenti di quella persona, e io posso stare un mese senza avere contatti con quella persona, contatti fisici diretti, senza avere rapporti non contatti, che tanto mi sembra in realtà di averla sempre con me. E poi mi ritrovo di non sentire vedere una persona a me cara per un mese. E questo disgrega anche questo tipo di rapporto sociale. Quindi da un lato c'è la frequentazione proprio per creare la coppia, e Tinder ti soddisfa questo problema, Facebook ti soddisfa il problema delle relazioni sociali. in generale, la pornografia, il bisogno di avere un rapporto sessuale con una persona. La pornografia ti toglie tutta quella che è la difficoltà di dover avviare il gioco anche erotico, sensuale, insomma il corteggiamento, tutte queste cose che adesso noi troviamo soltanto nei romanzi ottocenteschi, alla Don Giovanni, o al diario del seduttore di Kierkegaard, queste cose molto vintage, e ti dice non c'è nessun problema, tu non hai voglia di metterti, di uscire di casa a far fatica per andare a corteggiare perché hai paura di prendere il 2 di picche, non ti preoccupare, ti forniamo noi a gratis, perché prima quando io andavo alle scuole medie c'erano i giornali, le riviste, tu devi andare in edicola, quindi anche la pornografia di fatto era una conquista. Io mi ricordo che si facevano i codazzi di fronte all'edicola, a sorte si doveva beccare chi andava a metterci la faccia con l'edicolante e poi si infilava il giornalino perché non te lo potevi tornare a portare a casa perché se no tua mamma ti prendeva e ti riempiva di bastonate, lo mettevi sotto la cabina del telefono di fronte alla scuola media e il giorno dopo andavi a riprenderlo con i compagni, la maggior parte delle volte spariva perché si era preso qualcun altro e quindi dovevi riprendere con l'iter. Questo problema di nuovo fuori, tu non devi neanche fare la fatica di andare dall'edicolante a chiedere la cassetta o il giornale, tu vai su internet in modo gratuito, tu hai tutto ciò che ti serve, tutto ciò che desideri, e anche a livello di tue fantasie per soddisfare i tuoi bisogni. Questo che cosa comporta? Comporta che tu non sei più abituato a lottare per avere ciò, anche ciò che desideri, anche le cose più banali, più effimere, più materiali, ma tu non sei più abituato a lottare, non sei più abituato a lottare per mantenere una tua amicizia, per avere il tuo rapporto sessuale, per avere il tuo rapporto di coppia. E questo ti rende, ti anestetizza, cioè toglie quello che è il vitalismo di una persona. E se da un punto di vista sociale avviene questo tipo di dinamica, dal punto di vista politico, che è uno degli aspetti della nostra società, viene riportato tutto questo problema. Tant'è vero che tutti noi diciamo, vabbè adesso c'è un problema a livello generale di politica, per cui la politica non è più rappresentativa di quella che è la popolazione, e quindi molti dicono, vabbè ma arriverà il momento in cui l'operaio arrabbiato, tutta la gente che non riesce, che fa fatica ad arrivare a fine mese, o che non vede soddisfatte le proprie problematiche, si scatenerà, si solleverà e succederà la rivoluzione, in realtà noi viviamo oggi, a mio avviso, in un tipo di società che comunque ti mette le condizioni di non arrivare a questa rabbia tale, per cui tu vai per strade con la voglia di ribaltare, perché tu sei già scarico di partenza. Quindi non solo tu sei in una situazione di individualismo estremo, per cui non avendo più la concezione del bene comune, pensi soltanto al tuo interesse particolare, ma non hai più neanche la fame per andarti a conquistare quello che è l'interesse particolare. La pornografia, dal mio punto di vista, è uno degli strumenti forse più diabolici, perché comunque sono quelli che ti tentano anche di più, per creare questo tipo di situazione di stanchezza, di partenza dell'essere umano, ed è il motivo per cui dal mio punto di vista è molto interessante affrontarlo, anche per chi, come molti dei ragazzi, delle persone che sono qua dentro, poi hanno una passione di militanza politica, quindi di dover intervenire con le altre persone che vivono con noi, questo paese, questo mondo a livello sociale. Fabrizio ci spiegherà il motivo, quindi come funzionano i vari meccanismi che inducono poi a creare tutte queste dinamiche di dipendenza dannose. L'aspetto sociale e politico, dal mio punto di vista, è questo. Per questo motivo, io, in modo anche provocatorio, sul talebano scrissi basta porno, la donna vi aspetta, eppure la rivoluzione. Quindi proprio per creare questo link, penso che sia importante per noi avere il coraggio di affrontare, anche con i nostri coetanei, appunto che se tu vai a toccare il porno ti prendono per mato, come per dire, ma tu da dove arrivi dal Settecento, invece far capire come sia un danno, anche per quelli che sono persino i loro bisogni materiali e meno nobili, passatemi pure il termine, ma come da questo parta tutto un meccanismo di passività dell'essere umano che poi si ripercuote in tutta quella che è la sfera della sua vita sociale. Buonasera a tutte, grazie intanto a voi di essere qui, soprattutto perché il tema fa sempre un po' sorridere finché non lo si conosce. Ringrazio poi le associazioni che ci ospitano, l'associazione, il gruppo di generazione identitaria con cui collaboriamo, e voi che avete organizzato questo evento. La pornografia è uno di quegli strumenti, a mio avviso, che il potere utilizza per distruggere la società basata sulla comunità. Quando parlo di comunità io mi riferisco sempre all'origine aristotelica del pensiero, quindi della famiglia, da cui poi si allarga a forme concentrici quella che è la società e quindi la comunità. E la pornografia è la metodologia più subdola perché questo avvenga, perché, come diceva prima Vincenzo e Lorenzo, è l'argomento che oggi, quando viene affrontato, normalmente viene preso come ma tu da cosa stai dicendo, da dove arrivi? E diamo un attimo dei numeri per farci capire. L'80% degli uomini guarda pornografia, il 30% di donne guarda pornografia. Quindi stiamo dicendo che cosa? Che la maggioranza delle persone sa e utilizza questo strumento per avere soddisfazione. La soddisfazione poi in questo caso è divisa perché l'uomo ha tramite la pornografia una soddisfazione individuale, mentre la donna cerca una soddisfazione di partnership, cioè col suo partner, senza sapere che poi questo processo produrrà un altro effetto, perché il problema sostanziale è che la pornografia agisce sull'uomo e sulla donna come, principalmente sull'uomo e sulla donna molto meno, come una droga. Perché? Quando viene, inizia l'effetto di visione, di immagine, che viene, come si ricordava prima, perpetrato in tutta la società, non per nulla nella copertina c'è un occhio, ok? Noi siamo sottoposti quotidianamente a immagini pornografiche, senza rendercene conto, perché molte immagini ormai sono di uso comune, ma se noi andassimo indietro di 20-30 anni fa avremmo subito l'incep per vedere che non era così. Molte immagini non sarebbero mai state messe come invece oggi vengono messe. Allora cosa succede? Che ogni qualvolta un uomo accende un video pornografico inizia a produrre quell'ormone che si chiama dopamina. Questa dopamina è quel ormone che crea eccitazione, crea eccitazione nella visione di queste immagini che inizialmente potrebbero essere un uomo e una donna. Cosa succede? Che andando avanti a vedere queste visioni, ovviamente per avere lo stesso effetto che si ha dalla prima volta che si guarda un video porno, per avere lo stesso effetto si deve alzare l'asticella della trasgressione. E quindi si inizieranno a vedere altri tipi di fenomeni pornografici. Chi, sicuramente qualcuno qua in questa sala ha guardato porno, sicuramente avrà potuto notare che ci sono diverse categorie. Queste diverse categorie sono quelle che potrebbero essere identificate come la trasgressione che serve per aumentare la produzione di dopamina in relazione all'alzata di asticella che dicevo precedentemente per mantenere lo stesso livello di godimento, nel senso lo stesso, la stesso tipo di eccitazione che poi culmina con l'eiaculazione. Allora qual è il problema? Che questo tipo di situazione, quindi di produzione di dopamina, crea una situazione per cui i soggetti che fanno uso di pornografia diventano dipendenti da pornografia. La pornodipendenza è una problematica che in Italia non è stata ancora visionata. Il primo che ha iniziato a verificare questo problema è un uomo che, dipendente da porno, siamo all'inizio anni 2000, inizia a preoccuparsi, inizia a girare dai psicologi. La maggior parte dei psicologi dice ma guarda non è un problema, cioè non esiste pornodipendenza e quindi il problema suo è di tutt'altro genere. Lui continua a studiare da solo e scopre che invece in America nascono i gruppi di mutuo aiuto per la pornografia e quindi lancia nel 2003 questo gruppo. E nasce, scopre una cosa incredibile. Gente che lo contatta da tutta Italia dicendo non ho più rapporti con mia moglie, il matrimonio è fallito, donne che si lamentano del proprio partner perché cresce la problematica dell'impotenza e quindi lui scopre che è un problema sociale. Allora, cosa succede? Succede che iniziano a nascere dei gruppi di aiuto anche in altri posti in Italia ma i psicologi non si interessano nella questione. e però c'è il SIAMS, cioè lo studio, praticamente sono i medici che studiano la sessualità in Italia, che scoprano qualcosa di strano. Nei giovani, tra i 15 e i 25 anni, inizia costantemente l'aumento di impotenza giovanile e questo non si riesce a capire come mai. E allora iniziano a comprendere che c'è questo problema di dipendenza dalla pornografia. Iniziano degli studi e si verifica che cosa? Che proprio per la questione della dopamina, in questione relativa al fatto che si deve alzare l'asticella e quindi l'eccitazione deve derivare sempre da un aumento di trasgressione, i ragazzi di questa fascia di età, guardando soprattutto pornografia, iniziano a creare una situazione per cui è svariata, iniziano a dissociarsi dalla realtà, a non avere più una comprensione di che cos'è la realtà in cui vivono, quindi un rapporto con una donna, una ragazza in quel caso, e quello che è la loro realtà, cioè la visione di porno, che quindi crea e altera una realtà di sesso. E quindi cosa scoprono? Scoprono che questa problematica di impotenza inizia a incidere su ragazzi da quell'età, quindi 15-25 anni, con numeri strabilianti, parliamo di oltre il 20% di ragazzi in cui dovrebbero essere delle, scusate, macchine da guerra per l'esplosione di ormoni, cioè correre dietro le ragazze, che invece non provano nulla avvicinandosi a una ragazza, avere un tentativo con una ragazza, proprio perché non riescono, a causa del cervello, a produrre quell'ormone, dopamina, perché per loro quel rapporto sarebbe nulla, la ragazza che vedono non è quella creata immagine nel loro cervello tramite video, quindi torniamo sulle immagini, perché ricordate che il problema principale è quello che si svolge nel cervello, dal cervello partono tutti gli input poi per il comportamento dell'uomo in relazione alla società in cui si vive. Studiando da questa parte noi andiamo a vedere anche che cosa, che lo stesso problema però non è solo per i giovani, ma diviene anche per gli uomini tra 40 e 50 anni. Che cosa succede? Succede che ovviamente avendo una storia con la propria donna a un certo punto hai quello che si chiama momento di stanca, quindi ovviamente ci si avvicina a qualcosa che stimoli e quindi c'è questo approccio continuato, ripetitivo, che prova una dipendenza ancora più forte che c'è nel giovane e quindi crea una situazione per cui nasce quella che è stata identificata come una delle problematiche della frammentazione familiare. Dati oggi ci rivelano che molte coppie non hanno più rapporti sessuali per due, tre, quattro anni perché l'uomo vive soggetto a sé stante in queste camere da solo, chiuso, col suo porno passando tre, quattro, anche cinque ore. Ci sono casi di pornodipendenti dove vivono sul lavoro guardando porno e poi anche a casa. Quindi ci sono molteplici aspetti di questa problematica della pornografia. Io indago anche e illustro una problematica a mio avviso allucinante che è quella sui giovani. I giovani oggi a dieci anni accedono facilmente alla pornografia, creano ed alterano la visione della donna perché ovviamente vedendo la donna in certe situazioni magari con più uomini avendo dieci anni, dodici anni capite che creano una visione della donna che è completamente distorta da quello che potrebbe essere e quindi poi è normale che succeda come è stato rilevato in Inghilterra questi gruppi di 14, 15 anni di ragazzi che invitano campagne di classe di 10, 12, 13, 14 anni quindi della loro stessa età e creano queste orge con una, due ragazze e loro imbranchi. sono delle cose incredibili ma sono testimoniati da fatti che sono successi in Inghilterra. In Italia invece abbiamo altri fatti delle gare di ragazze dei 14, 15 anni in atti sessuali nelle scuole facendo proprio letteralmente una gara a punti. Questo è successo nelle scuole di Milano riportato facilmente da molti quotidiani. Ma questo perché avviene? Perché avviene perché il ragazzo non ha più quella conoscenza del sesso che sarebbe come dire programmata a fasi proviamo a pensare un ragazzino di 15 anni fa 20, 30 anni fa non avrebbe l'accesso alla pornografia quindi non ha conoscenza sente parlare c'è l'amico più grande che magari gli racconta qualcosa ma poi l'esperienza materiale la dovrà vivere su se stesso e dalla stessa parte anche la ragazzina la ragazza dall'altra parte quindi ci sarà un atteggiamento anche boccacesco inizialmente magari anche di allontanare e comunque anche tra virgolette alcune volte di schifo perché c'è anche questo fatto questo non esiste più oggi c'è sesso materia l'età dell'atto punto in tutti gli anni inizia dai 10 anni fino a quando grazie alle pillole che oggi vengono fornite dagli andrologi come dai ginecologi non c'è più problema possiamo andare anche a età dove teoricamente il sesso non dovrebbe essere più rilevante e quindi il libro com'è diviso è diviso in due parti nella prima parte sono sei capitoli in cui si spiegano in modo differente il rapporto della pornografia con l'uomo con i ragazzi con le donne e poi un capitolo che ha creato incredibilmente un furore dal parte del mondo omosessuale da parte di tutto il mondo antiproibizionista settimana scorsa io ero a Genova a presentare il libro dove c'era è stato più che altro un contraddittorio anche Michele De Lucia che è uno scrittore radicale antiproibizionista dove è andato su tutte le fughe per il capitolo specifico sull'omosessualità e la pornografia perché? perché io sostengo che la pornografia contribuisca a quanto sta avvenendo nella nostra società cioè a rendere a portare il nostro mondo verso un'omosessualità non solo accettata non solo condivisa ma anche praticata e come avverrebbe questo passaggio? il passaggio viene descritto nelle fasi come si sviluppa sempre con la logica della dopamina per cui a un certo punto per produrre eccitamento l'uomo cosa ha necessità? di una nuova colpo di trasgressione ed ecco che approda a quell'atto con cui c'è lui l'uomo la donna e un transessuale ecco quindi legittimato il passaggio con l'omosessualità perché dopo quel passaggio ci sarà solo l'uomo con il transessuale e da lì quindi sei nella categoria omosessualità questo fatto che è poi riportato e specificatamente introdotto di come funziona il cervello da Paolo Cioni e quindi legittimato per la questione della dopamina quindi di alzare di produrre questa dopamina quindi di trasgredire per arrivare sempre a un livello maggiore crea delle problematiche perché ovviamente cosa vorrebbe dire? vorrebbe dire che noi ovviamente non è che tutti hanno questo processo ma che se l'ottante passa per cento delle persone maschi guardano videoporno e ovviamente hanno tutti i processi che abbiamo detto si comprende benissimo perché negli ultimi dieci anni noi abbiamo un aumento incredibile di uomini che si rivolgono all'atto sessuale verso altri uomini quindi questo è un problema sociale noi oggi sappiamo per esempio e qua me ne vanto come gruppo del talebano perché noi inizialmente venimmo derisi tanto per cambiare ma siamo anticipatori di tanti argomenti tre anni fa scrissimo per primi della problematica della teoria gender individuandola ovviamente sotto un profilo politico noi venimo presi in giro oggi invece è diventato un problema gigante perché se nelle scuole si insegna un certo tipo di pratica sessuale individuando il fatto che il bambino e la bambina non sono maschio o femmina beh questo è incredibile visto che geneticamente noi sappiamo benissimo che XX è donna e XY è uomo non ci sono non si scappa non ci sono sovrastrutture che possono cambiare questo quindi questa farloccata che stanno creando è soltanto inerente in tutto quel processo per cui si vuole creare una distinzione tra ciò che è la comunità e ciò che è l'individuo quindi l'individuo sceglierebbe a se stessi dicevo con De Lucia che mi accusava di essere un passatista perché volevo mettere delle regole delle regole quindi volevo stabilire la libertà per gli altri cercando di non far guardare la pornografia che invece era un atto di libertà sessuale che ogni uomo poteva avere con se stesso io gli ho fatto questo esempio quando un uomo e una donna perché ancora oggi si fa così hanno la fortuna di concepire un figlio a questo figlio metteranno delle regole e non è che metteranno queste regole perché sono cattivi e non vogliono lasciare la libertà a questo bambino ma semplicemente perché lo vogliono proteggere ecco la società a mio avviso dovrebbe mantenere delle regole per proteggere gli individui che molte volte vengono plagiati da situazioni di cui non conoscono i reali effetti nell'ultimo capitolo che è quello politico che affronto dove spiego che a mio avviso la pornografia è uno strumento del potere è uno strumento del potere perché nella logica interpretativa della mia analisi vado a sviluppare il concetto per cui la pornografia crea individualismo l'individuo quindi viene staccato completamente dalla società essendo staccato dalla società ovviamente è più vulnerabile da tutto ciò che è la necessità del potere cioè influire su questo individuo quindi creare situazioni per cui questo individuo sarà soggetto per esempio al consumismo noi facciamo conto che tutti oggi è uscito l'iPhone 6 o il Samsung 6 come si chiama tutti abbiamo un cellulare ma moltissimi correranno ad acquistare questo telefono che non è che renderà maggiormente la libertà o la vita a queste persone che lo acquisteranno non produrrà niente è solo un servizio che viene fatto alla ricerca del profitto di queste due aziende allora perché queste persone corrono? perché ovviamente sono scollegate da una vita sociale reale per cui non si rendono conto che magari è inutile avere un telefonino ipermoderno che fa le stesse cose di un telefonino cioè chiamare o ricevere messaggi di uno che aveva due anni fa questo tipo di esempio lo si può fare per tutto automobili computer qualsiasi cosa allora il mio ragionamento è in questo ambito che ho appena descritto consumistico ma può essere rapportato su tutti gli argomenti come anche la disgregazione familiare io mi occupo per diversi altri motivi di padri separati e in quell'ambito si può verificare facilmente come la pornografia ha inciso nel rapporto della loro famiglia di come la pornografia ha creato disfunzioni nella crescita dei figli di queste famiglie perché ricordiamo che quando uno è dipendente dalla pornografia la sua unica realtà è la visione l'immagine di quello che vede sul computer nel suo cervello si proiettano continuamente queste immagini quindi diventa anche un fatto per cui lui non si preoccupa più della moglie e del figlio allora per concludere la mia breve presentazione il discorso è semplice quando io ho iniziato questo tipo di discorso della pornografia e presentando l'idea a Lorenzo Vitelli che è il presidente del circolo Predom che è la casa editrice sono tutti ragazzi di 20-25 anni sottolineo quindi l'importanza di questo progetto del circolo Predom c'era anche il voi lo conoscerete sicuramente il filosofo Diego Fusaro e Diego Fusaro era due anni fa parlando di questo fatto della pornografia entrambi mi guardarono come dire vabbè ma adesso anche attaccare la pornografia insomma sembra eccessivo oggi Lorenzo è il primo ragazzo di 22-23 anni 23 anni che si pente di quella frase che mi disse e promuove questo libro in un modo incredibile e fa a Roma gruppi e incontri per specificare quanto è dannosa la pornografia a livello sociale per i giovani soprattutto per i giovani perché ricordo che i giovani sono il futuro della nostra patria e quindi proprio da loro si deve ripartire per creare una società che io chiamo sana e che qualcun altro invece chiama passatista ci volevo chiedergli questa è una cosa di cui lui ha accennato nel libro come il 68 ha portato un cambiamento nella società sotto questi termini con tutto lo sdoganamento della sessualità appunto il sesso libero come è influito questo per arrivare allo stato di cose nel quale siamo noi oggi sì beh intanto certamente il 68 e il femminismo hanno prodotto e contribuito questo tipo di ragionamento cercando di ragionare sul fatto che il corpo e l'individuo è libero e quindi in quel processo per cui tutti noi dovremmo pensare e sviluppare il nostro io in relazione al nostro soddisfacimento personale quindi da lì parte un processo tant'è vero che è in quegli anni che noi abbiamo proprio uno sviluppo dell'ambiente della pornografia in modo forte in Italia sono gli anni in cui nasce Cicciolina nasce Moana Pozzi sono gli anni dove Schicchi porta i primi spettacoli nascono le prime provocazioni dove a inizio anni 80 si sviluppa quello che era il cinema erotico che non c'entra nullo con la pornografia l'erotismo è una cosa sana è guardare per esempio la caviglia di una donna e iniziare a immaginare e sviluppare con la fantasia un certo tipo di eccitazione non crea questo tipo di discorso la dopamina quel processo di ormone quindi è una cosa buona l'erotismo ma l'erotismo oggi non esiste più è stato ucciso dalla pornografia e noi abbiamo proprio in quegli anni questo tipo di sviluppo e che ha prodotto poi tutti gli effetti per cui oggi noi abbiamo legittimato la pornografia e non solo abbiamo magari nelle tv normalissime persone pornostare che divengono non si sa sotto quale aspetto donne o uomini che ci raccontano e ci spiegano la vita sociale delle persone quindi persone che hanno fatto della loro vita l'esibizionismo si sono scusate io la penso così vendute per un ritorno economico a fare visioni cioè fare questi film in un modo così libertino che poi hanno contribuito a disgregare la società in cui viviamo quindi il processo inizia da quegli anni per questi motivi oggi moltissime femministe che in quegli anni erano su queste posizioni libertine libertarie oggi hanno fatto marcia indietro mi è capitato proprio a Genova un anno e mezzo fa su un argomento simile il mio libro non è ancora uscito ma si parlava comunque di questi argomenti che una femminista riconoscesse che loro avevano esagerato e che la libertà individuale non può esistere se non esiste una regola sociale ben condivisa ma qui potremmo andare che questo tipo di ragionamenti li aveva già affrontati qualcuno di più importante che una donna convertita dal femminismo sessantottino cioè da Durkheim e quindi da tutti quegli sociologi che nell'ottocento spiegano benissimo l'importanza delle regole per mantenere una società salda e sana è semplicissima anche perché se io e lo si vede sempre dai dati inglesi dove viene sviluppato la sessualità in un certo modo vediamo infatti che in quella società ci sono tantissime ragazze da 12 anni in su che sono mamme o giovani ma molte non sono mamme perché procedono con l'aborto quindi cioè ritornando al ragionamento prima tra i ragazzi e la pornografia è evidente che cosa che la conoscenza diretta di certe esperienze tramite l'immagine via smartphone creano poi quelle situazioni per cui già a 10, 12, 13, 14 anni senza avere nessuna conoscenza di altre situazioni hanno questi rapporti e quindi rimangono incinta e quindi poi ovviamente molte famiglie direttamente o come il caso di una ragazza adesso nel 2012 di Milano che è stata beccata adesso così non so come definirla in Svizzera dove era andata con una sua amica più grande che l'aveva accompagnata che faceva finta di essere la sorella per firmare adesso non so bene tutta la questione che era andata a abortire perché? perché era rimasta incinta frequentando al sabato pomeriggio una discoteca di Milano cioè adesso perché poi entra anche l'effetto della problematica delle sostanze stupefacenti comunque ci sono ovviamente ci sono delle contaminazioni per cui ovviamente ogni discorso non può essere preso a sé ma si sviluppano e si integrano in questo ragionamento per cui tutti accedono alla ricerca di soddisfazione personale e quindi accedono a questo tipo di pratiche e poi ovviamente nascono le problematiche e si devono risolvere anche con quello io le identifico così se quando metto il mio io davanti a tutto ma lo si vede nei rapporti di famiglia che descrivo quando il dipendente di pornografia mette soltanto cioè la sua ragione di vita è accendere il computer e vedere quel tipo di eccitazione tramite quelle immagini tutto il resto non conta più quindi ho messo davanti me e la mia persona quindi il mio figlio va male a scuola mia moglie non è mai a casa è irrilevante non interessa assolutamente più la pornodipendenza è un problema grossissimo che non viene preso in considerazione perché anche gli psicologi non conoscono ancora gli effetti e evitano di produrre questo tipo di ragionamenti perché non c'è come dicono loro una linea comune di come intervenire quindi anche questa è una problematica per cui uno dovrebbe dire ma scusate se il problema c'è l'ha identificato è irrilevante se l'ordine dei medici o chi per esso non ti ha ancora detto cosa devi fare cioè trova il metodo per risolvere la problematica non stare a aspettare sempre che qualcuno dall'alto ti dica come e cosa devi fare sempre che poi il come e cosa devi fare sia giusto quindi niente ringrazio ancora Fabrizio Vincenzo e invito tutti nessuno escluso a comprare una copia del libro che potete trovare di là e a dargli una bella letta e a pensare a ciò che avete attorno a voi e alla vostra società come questa influenza anche con armi così subdole e malvagie il corso della storia il corso della nostra società grazie mille